Rieccoci da Palazzo Mezzanotte, vi avevo preannunciato che avremmo avuto una serie di ospiti in questi stand up ebbene ho il piacere di avere qui accanto a me il primo, ovvero Simone Dattoli, fondatore EAD di In Rete relazioni istituzionali e comunicazione. Innanzitutto Dottor Dattoli spieghiamo un po' ai nostri telespettatori di cosa si occupa in Rete e cosa la distingue rispetto alle altre realtà che operano nel settore dei public affairs che come abbiamo già preannunciato ai nostri telespettatori sarà uno dei temi e delle categorie che andremo a premiare questa sera. Buonasera, grazie. In Rete è una società di comunicazione completa che possiamo definire in qualche modo rotonda perché ha saputo anticipare quelli che sono i trend del mercato e guardare avanti fin dalla propria nascita e crescita che è stata organica. Abbiamo aggiunto man mano business unit e gruppi di lavoro che potessero essere utili per quelli che sono poi i servizi che offriamo ai nostri clienti. e quindi con competenza ci siamo specializzati prima nella parte di relazioni istituzionali, poi negli eventi, poi nelle media relations, infine nel digital per arrivare a chiudere il cerchio con l'attività di lobbying in senso stretto. A questo punto possiamo veramente definirci e credo che i risultati lo raccontino da soli, un'agenzia che può fare tutto quello che serve per agire con competenza. Ha citato i risultati e voi di risultati ne avete avuti parecchi questo 2019. Proviamo a raccontare alcuni dei successi di Rete di quest'anno. Se devo raccontare i nostri successi del 2019 mi vengono in mente tre cose. La prima è la nascita del centro studi di Rete che ha portato un'ulteriore specializzazione e focalizzazione sul tema della lobbying. Molto apprezzato e molto riconosciuto dai nostri clienti. Il secondo è stata la campagna di comunicazione, in questo caso quindi ci spostiamo un pochino dal public affairs alla comunicazione pubblica. La campagna di comunicazione che abbiamo fatto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per il CONI abbiamo infatti seguito, avuto il piacere e l'onore di vincere la gara per seguire la campagna di comunicazione. Quindi abbiamo seguito gli ultimi sei mesi di questa cavalcata che ci hanno portati poi a Losanna a vincere, come sappiamo tutti, quello che era l'ambita manifestazione. Infine, sempre quest'anno abbiamo avuto il grande piacere e l'onore di essere confermati da Regione Lombardia come la società di eventi che si occupa di tutto quello che sono gli eventi del mondo regionale e del panorama pubblico lombardo. Direi che quindi avete di che festeggiare rispetto ai successi di quest'anno. Bene, io ringrazio Simone Dattoli per essere stato qui con noi. Lo lascio poi andare per l'aperitivo di benvenuto e speriamo di riaberla poi presto anche nei nostri studi per raccontare ancora di più queste interessantissime iniziative. Grazie ancora. Per il momento, Alexandra, da Palazzo Mezzanotte è tutto. Ci rivediamo tra poco.